Stefano Sala e Benedetta mazza ancora insieme dopo il grande fratello VIP.Ci sono news su Stefano e Benedetta, dopo il GFVP2 continuano a sorprendere I fan che li seguono su Instagram non hanno potuto fare a meno di notare, con piacere, che l'amicizia fra i due prosegue Per il momento non c'è nulla di più, se vi aspettavate di scoprire oggi che Stefano e Benedetta stanno insieme purtroppo dobbiamo deludere le vostre aspettative e dirvi di no Nonostante questo, chi si è affezionato a loro durante il GFVP non può che gioire per il loro rapporto Più volte in casa Benedetta si è mostrata timorosa di non avere con Stefano lo stesso rapporto che hanno costruito sotto le telecamere Lui l'ha rassicurata dicendo che la loro amicizia non sarebbe cambiata e così sta succedendo Stefano e Benedetta insieme, il nuovo progetto dei due amici.Ma oltre all'amicizia c'è altro che lega Stefano e Benedetta Tutti sanno ormai che fanno parte della stessa agenzia, per cui c'è da stupirsi se lavorano insieme Ed è ciò che sta succedendo in queste settimane. Una volta usciti dal grande fratello Vip, con la tristezza di doversi separare, stanno lavorando a un nuovo progetto insieme Non si conoscono ancora tutti i dettagli, ma qualcosa possiamo dedurre da alcune storie dei scorsi giorni e da un messaggio scritto stanotte dal modello Questo ragazzo in 20 minuti con un microfono e un mixer ha saputo fare un capolavoro con me e Benny, ha scritto Stefano ringraziando chi ha aiutato lui e Benedetta a incidere una canzone Stefano e Benedetta dopo il GF VIP, le ultime news.Nella casa abbiamo scoperto che sia Stefano sia Benedetta piace cantare, ed è solo l'ennesima cosa in comune che li unisce in modo speciale Con la popolarità avuta grazie al GF VIP 2018 e una volta conquistato anche l'affetto del pubblico, ora i due modelli potrebbero portare in scena la loro passione per il canto Il GF VIP in questi giorni ha travolto il modello, che era insieme ad Ascia in vacanza ma sembravano distanti, ma oggi questa novità, che potrebbe essere una canzone, riporta l'attenzione su Benedetta e Stefano Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like